La liturgia di oggi ci propone la figura del profeta Osea. Osea è stato incaricato da Dio di una missione molto speciale. Questa missione consiste nell'annunciare al popolo di Israele che è stato infedele nei confronti del suo Dio. In effetti è andata proprio così. Il popolo di Israele si è rivolto ad altre divinità, si è rivolto agli dei degli egiziani, si è rivolto agli dei degli assiri, ma non si è rivolto al proprio Dio o almeno non in modo esclusivo. E mentre Osea annuncia queste cose vive una situazione analoga nella propria famiglia perché Gomer, sua moglie, lo tradisce. E allora Osea ci sta male, si arrabbia, fa di tutto per riconquistare sua moglie perché ci tiene alla propria moglie. E Dio fa la stessa cosa nei confronti del suo popolo. Cerca di riconquistarlo. E allora possiamo capire meglio le parole del Salmo di oggi. Il Signore è pietoso, lento all'ira e grande nell'amore.